Siamo arrivati in un'altra domanda. È troppo veloce, è sempre rivoloso, vero? Stiamo a fare un incidante da. Ecco, cavolo, cavolo è successo. Se la prima è la prima, ovviamente non iniziamo. Cioè, non fino a noi, finiamo a prima. Loro stanno per finire, non iniziamo. Da tre ore inizia la partita, Fabio. Da tre ore inizia la partita. Io ti ho un po' di tempo. E' quasi 45? Eh, sono le 5.43. Sai quali... ...dai da quella di... ...di mercolio. No, adesso ci vanno la primavera... ...e la primavera. Tanto è l'ultima, questa è la primavera nazionale? Questa è l'ultima, sì. Dopo c'è l'imposizione? Sì, mica tanto. Io ci vedo che devo andare a Roma. C'era l'Italia. L'Italia? Sì. Sì. Chi gioca l'Italia? Belgio. Lukaku? No, Lukaku non ci va, resta in Napoli allenarsi. ... ... ... ... ... ... ... ...